Bene, buonasera a tutti. Iniziamo il seminario dedicato alla filiera apistica dalla valorizzazione delle produzioni all'innovazione, quale percorso chiave per lo sviluppo competitivo del settore. Io rubo veramente solo pochi secondi per ringraziare i colleghi che hanno reso possibile l'organizzazione di questo momento importante su un tema altrettanto importante per lo sviluppo del territorio montano, alla dottoressa Sara Panseri che si occupa da anni per il polo di edolo della Statale di Milano di tematiche relative alla filiera apistica, al professor Giorgio Calabrese che ci onora della sua presenza e del suo contributo evidentemente, al professor Antonio Zuorro, al professore Lia Ranzato, alla professoressa Simona Martinotti e alla dottoressa Valeria Leoni, che evidentemente sorrido perché la dottoressa Leoni è una giovane dottoranda che ha deciso di intraprendere la sua carriera professionale in università puntando tutto sulla filiera apistica, quindi una giovane leva. Sicuramente, come dire, il seminario sarà assolutamente interessante visto il calibro dei relatori, siamo già, lo dico, a beneficio sia dei relatori che dell'intero consesso in oltre 130 partecipanti, ormai questa è una regola, i seminari che Unimont organizza ed eroga anche da remoto sono diventati estremamente popolari e questo è evidentemente un segno di gradimento che attesta la bontà delle iniziative e anche, e mi permetto di sottolinearlo perché per noi è, come dire, un'acquisizione importante, dimostra il fatto che pur essendo in un piccolo comune di montagna, distante 160 chilometri da Milano, dalla grande città, è possibile essere presenti grazie alla tecnologia, insomma, grazie alla rete e diciamo in modo diffuso e disseminare, divulgare contenuti di carattere scientifico attività che il Polo di Edo lo svolge con intensità e con efficacia evidentemente ormai da molti anni. Chiudo, lascio la parola a Sara e vi auguro buon lavoro ai relatori e, insomma, bella esperienza a chi fruisce del seminario. Grazie mille, non rubo tanto tempo, vedo che l'aula da remoto si sta popolando. Eh il professor Calabrese, appunto, ci introdurrà un po' eh quello che è il concetto del valore delle produzioni apistiche in chiave proprio di vantaggio nutrizionale delle potenzialità. Questo seminario, il seminario di stasera vuole essere un po' una una chiave di di volta, innovazione. Chi ci segue sulla filiera apistica eh sa come lavoriamo a tutela delle produzioni in termini di food safety, quindi sicurezza alimentare, ma oggi vogliamo un po' andare ad esplorare nuovi ambiti. La stessa Unione Europea ci dice di puntare sulla biodiversità in modo concreto e per far dare competitività delle produzioni che sono fondamentalmente la resilienza, il nostro valore intrinseco dei territori. Eh dare quindi la prova, la parola al professor Calabrese eh che ci eh credo maggiorà di un prezioso eh intervento proprio su una filiera così importante per un valore anche tessuto economico del nostro paese. A lei la parola professore. Bene, buonasera a tutte e a tutti colleghi, grazie per il gentile invito. Eh devo dire che questo eh seminario mi coglie molto felice perché fine in fondo è la nostra società eh sta facendo una battaglia a ai massimi termini contro ciò che è dolce e nel dolce si intravede il male del mondo. Invece non capiamo che il nostro con la nostra condotta eh metabolica ha necessità di avere eh sicuramente una introduzione corroborante energetica e nel contempo stimolante alcune funzioni eh metaboliche biochimiche per cui devo dire che parlare di miele di cui si parla sempre troppo poco e quando se ne parla molto spesso se ne parla da incompetenti e quando parlano gli incompetenti fanno più male che bene perché non fanno capire fino in fondo che noi non parliamo di un edulcorante parliamo di un alimento che stimola nel nostro organismo la sensibilità la sensazione di dolce che è poi quello che permette in una vita amara come la nostra di avere una visione come dire più celestiale, più serena, più gradevole, più direi più eh meno amaricante ecco. In questo momento quello che noi dobbiamo sottolineare è una cosa che il miele non è un dolcificante il miele è un alimento che stimolando i i i recettori della punta della lingua noi troviamo una responsività a livello della calotta cerebrale che permette a determinati elementi a determinati recettori di farci capire che quella cosa è dolce e questo avviene grazie al fatto che come mi hanno permesso di fare il professor Ranzato la professoressa Martinotti con alcune slide che mi hanno preparato c'è questo discorso della differenziazione tra monosaccaridi disaccaridi e polisaccaridi che si assommano nella differenza della loro presenza della loro nutrienza come io ho inventato come termine che l'insieme di alimentazione e nutrizione crea questa capacità di avere un rapporto che sia di grande precisione quando noi parliamo della degli monosaccaridi del miele parliamo di fruttosio e glucosio in cui noi abbiamo un 38 per cento di fruttosio e abbiamo un 31 per cento di glucosio non è proprio un rapporto 2 1 però è un rapporto che si avvicina perché poi lavora in associazione ai disaccaridi presenti cioè il maltosio che al 7 per cento e infine il saccarosio che non è altro che l'insieme di glucosio e fruttosio questo per ricordarlo naturalmente lo sapete molto bene che è l'1 2 per cento dopodiché entriamo nell'ottica della presenza di alcuni polisaccaridi il miele ha una caratteristica e liquido un po quasi oleoso scivolante mamma al massimo 18 per cento di acqua non è un liquido vero e ha una capacità di gestirsi delle sostanze azotate e proteiche che poi ci permettono di lavorare nella suddivisione del polline del degli enzimi degli aminoacidi c'è di tutte quelle costruzioni che poi sono altri elementi del miele e del mondo apistico che permettono alla nostra salute come il polline appunto di avere maggiore salute una cosa devo sottolineare questo lo dico alle colleghe che hanno presentato molto bene questo questo tipo di seminario abbiamo bisogno di percepire che il miele proprio perché nutre oltre che dare il senso del gusto dolce ha una capacità di gestire dei rapporti biochimici che sono legati non tanto ai nutrienti energetici quindi proteine zuccheri grassi quanto ai nutrienti che non sono energetici ma metabolicamente biochimicamente attivi parliamo di antiossidanti ma parliamo anche di sostanze che agiscono su una sfera che fino in fondo si dice un po così ai meno coscienti di questo argomento che sarebbero delle sostanze antibiotiche dobbiamo chiarire quando parliamo di inibina e gastridina parliamo di due sostanze che hanno la capacità di essere batteriostatici e non battericide perché sono fondamentali per il nostro organismo laddove noi combattiamo nella profilassi nella prevenzione della insorgenza di stati che trovando alcuni momenti virali molto più presenti o addirittura misti virali e batterici o ancora addirittura misti virali batterici e micotici quindi fungini che danno questa reattività infiammatoria stimolando molto la cascata delle interleuchine 6 la cascata anche delle citochine e diminuendo la cascata invece delle interleuchine 4 e delle eucotrieni allora noi dobbiamo pensare al miele come un elemento che sia nutriente ed edulcorante ma agisce in una condizione di bloccare come si fa quando una un uomo di 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 delle forze armate blocca il ladro gli mette le manette non lo uccide non è battericida ma è batterio statico poi noi stiamo studiando una sostanza che si chiama defensina 1 che abbiamo visto che aiuta anch'essa nel modulare le attività immunologiche e anticorpale in questa fase in cui il covid ci sta massacrando avere queste sostanze che ci aiutano non è male certo dobbiamo anche sottolineare che cosa un'altra cosa che è fondamentale il miele ha una capacità di farlo di gestire tra il rapporto di fruttoso e glucosio la produzione endogena di sostanze che diano energia e quindi che facciano produrre un ormone importante che è l'insulina che sta alla gli zuccheri come diciamo il bicarbonato il malo che sta all'acidità di tampona certo dobbiamo stare attenti in coloro che soffrono di diabete perché il diabete in special modo il diabete tipo 2 detto mellito e di quello è che ha una maggiore quantità nel sangue di un tasso glicemico alto e quindi e quindi potrebbe creare una melassa ecco per stare nel miele all'interno delle arterie dando una maggiore aggregazione delle piastrine e quindi creando quei tappi che sono i trombi e che potrebbero creare delle difficoltà di come dire di fluidificazione all'interno delle arterie ma anche dei capillari e soprattutto delle piccole coronarie quindi il miele ha una sua connotazione ben precisa certo noi facciamo tutto un discorso nei confronti del diabete perché parliamo del miele che ha la capacità di avere un indice glicemico che non supera il 50 50 52 mentre il diciamo il glucosio va cioè il saccarosio scusatemi va un po più alto ma non è che la differenza sia di 100 se uno va a 50 l'altro va a 60 però il concetto dell'indice glicemico basso ci fa riflettere su un'altra cosa perché se noi il miele lo associamo una quota di introduttiva di fibre in special modo fibre che siano capaci di gestire l'assorbimento di grassi e zucchero a livello della valvola di bauino quindi nella nella zona enterocolica lì nel circolo enteroepatico noi sappiamo che possiamo antagonizzare questo tipo di presenza e quindi abbiamo la sicurezza che questo tipo di indice glicemico che poi in cerca di non stimolare eccessivamente la quota glicemica nel sangue in special modo di coloro che sono con una detrazione reattiva da un punto di vista clinico medico e quindi con una concessione di diabete di tipo 2 il tipo mellito allora lì noi capiamo che lavorando con la giusta quantità e con la giusta frequenza noi siamo in grado di poter anche utilizzare un po di miele al posto del saccarosio anche nel diabetico sempre pensando alla quota di fibra che deve entrare non dimenticando che ci sono 30 grammi al giorno di fibra necessari per poter assorbire meno zuccheri e meno grassi questo discorso perché io lo faccio perché molto spesso noi indichiamo il rapporto della insorgenza del diabete come una delle cause che deprimono il metabolismo umano in questa fase voi sapete di covid 19 noi clinici noi medici abbiamo la paura del diabetico e del grave obeso perché perché ambe due avendo una iper eccitazione delle cellule beta dell'angranz del pancreas nella testa si ha una maggiore produzione di insulina che è un ormone che oltre che ad andare a pareggiare andare a tamponare la quota di carboidrati per dare energia come i pistoni della macchina fanno con la benzina c'è però questo stesso meccanismo potrebbe creare delle difficoltà se non ci fosse la giusta quota di fibra quindi incominciamo a ragionare che quando noi utilizziamo il miele fosse anche un biscotto mettiamo dei biscotti di farina integrale più fibra meno capacità di assorbimento e non meno capacità di introduzione allora a quel punto resta il dolce del gusto sulla nostra punta della lingua la nostra calotta cerebrale ci si permette di farci sognare quei gusti molto buoni però quando arriviamo a livello del circolo enteroepatico l'assorbimento e soprattutto nelle enterocellule e gli enterovilli noi vediamo che abbiamo una minore un minore assorbimento ma noi abbiamo minerali abbiamo vitamine soprattutto idrosolubili abbiamo delle sostanze antiossidanti che ci permettono di svecchiare le membrane delle nostre cellule e nel contempo abbiamo anche la capacità di non solo di antiossidare ma di dare una maggiore vitalità sappiate che in questo momento c'è tutto lo che stiamo facendo sul rapporto della presenza dell'Alzheimer io ho una figlia che è una collega medico internista specialista che ha lavorato col professor Arancio Ottavio Arancio alla Columbia University di New York Ottavio si occupa moltissimo di Alzheimer è uno dei grandi scienziati italiani presi dell'NIH americano e lei è una delle sue allievi e si sta lavorando proprio per capire fino in fondo quale sia il ruolo di alcune sostanze soprattutto monosaccaridiche all'interno della protezione delle cellule per bloccare le proteine tau e stimolare la produzione di alcune apolipoproteine il miele si vede che ha questo tipo di capacità di lettura della nostra della nostra impostazione introduttiva quindi io mi sento di dire al bambino che ha la tosse di notte all'anziano che ha l'insonnia a coloro che hanno avuto delle ustioni un po più importanti a coloro che sono usurati perché fanno i turni di notte o perché sono depressi o perché hanno delle gravi patologie oppure delle condizioni che sono psicologiche molto deprimenti di utilizzare il miele e noi dobbiamo considerare che un cucchiaino di miele gestisce il diciamo 8 grammi di zucchero e quelle 304 calorie di un miele generico se li consideriamo a 10 grammi sono 30 calorie le 30 calorie inserite con i loro nutrienti non energetici all'interno ci permettono di veicolare in poco spazio tanta buona salute allora è molto interessante questo discorso nell'utilizzo del miele di per sé certo noi stiamo lavorando poi vi ricordo così tanto per motivi eh di 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 connotazione scientifica io sono presidente ora in scadenza del comitato nazionale della sicurezza alimentare del ministero della salute e abbiamo fatto proprio un lavoro noi se voi andate sul desk del ministero della salute cercate cnsa comitato nazionale sicurezza alimentare troverete negli tre anni gli ultimi tre anni sono da sei anni presidente ho fatto già due mandati e potrebbe succedere anche che ce ne sia ancora un terzo la prossima settimana che inizi ma il fatto del miele l'ho voluto io che fosse studiato perché noi parliamo di miele genericamente ma noi abbiamo tanti tipi di mieli e questi mieli sono ognuno più connotati dal gusto più dolce più amaro più ricco di antiossidanti meno ricco di antiossidanti più ricco di inibina piuttosto che meno di inibina tutto questo ci porterà sempre di più a considerare questo che è un alimento che sostituisce tranquillamente i dolci generici che spesso si chiamano dolci ma sono grassi mentre il miele invece ha la nobilità dell'essere dolce nella punta della lingua dolce nel cervello ma dolce anche nell'assorbimento perché lo stomaco gradisce molto a un ph simile a quello dello stomaco e nel contempo quando poi passa tramite l'apertura del piloro nell'intestino diventa basificando la capacità di evacuazione intestinale che non si è infiammato di bloccare stati infiammatori che potrebbero creare nelle colite immagino nel colon irritabile molto spesso questi tipi di infiammazione con situazioni anche sintomatologiche molto gravi a volte con anche emorragie e quindi il miele è positivo basta soltanto saperlo utilizzare nella giusta quantità nella giusta frequenza e nei giusti pazienti però togliamo quei pazienti che sono altamente diabetici altamente diabeti non diabetici altamente diabetici e noi ci rendiamo conto che quelli che escluderemo saranno l'uno per cento del popolo italiano un popolo che nella vita ha sempre saputo vivere di gioia questa cosa qua che voi avete fatto in un piccolo paese con una grande università come quella di milano e io mi complimento con il momento con sarà perché con tutto il suo gruppo perché questo tipo di idea è nata dallo studio di un prodotto quindi la collega giovane sarà fra dieci anni una scienziata che conoscerà tantissimo di tutto ciò che il mondo apistico e da lì noi ripartiamo perché voi giovani siete come sono i miei simona ed elia due scienziati di alto livello che stanno facendo una grande carriera proprio perché vanno in dipti in profondità bisogna andare in dipti il miele non è stato ancora studiato in dipti questo è il ruolo che l'unimont si deve dare ora io vi chiedo scusa vi saluto se c'è qualche domanda sono ancora a vostra disposizione altrimenti poi io chiedo grazie professore per l'incantevole affascinante dissertazione che veramente eh fa capire come i prodotti apistici sono una filiera che ci possa dare agio come preziosi alleati per la salute per il gusto e non dimentichiamoci in competitività per un territorio perché l'espressione di quella che è la nostra tradizione biodiversità territoriale eh grazie infinite perché veramente eh una dissertazione così non può che aprire dei lavori che in questo seminario sono un po' diversi dai soliti che di solito affrontano le criticità della filiera oggi vogliamo portare invece una fotografia di un percorso di innovazione perché anche se la filiera apistica è una filiera dichiaratamente fragile polverizzata ha una forza di coesione di competitività che non possiamo ad oggi lasciarci assolutamente sfuggire io la ringrazio enormemente spero che eh di averla eh ospite presto in presenza presso il polo di Unimont in quello che speriamo sarà il prossimo incontro in presenza con un workshop molto molto più ricco io ringrazio voi siete molto gentili molto carini e siete sulla strada giusta mi fa piacere che vedere giovani scienziati che continuano una strada che noi anziani abbiamo aperto il percorso però in parte spero che voi possiate veramente far capire che nel miele ci saranno ancora tante sostanze noi abbiamo circa 300 eh tipi di miele ma secondo me ne troveremo ancora e sono sicuro che eh un'università importante come quella di Milano senza togliere nulla la nostra del Piemonte Orientale a cui io faccio parte che è di grande livello ma anche quella della Sapienza dove c'è il collega cioè io penso che le università debbano fare una un coacerbo di coalizione per poter arrivare a dare a questo sostanza questa sostanza l'importanza che merita mi stanno già chiamando dal Ministero vi chiedo scusa sono mortificato avrei sentito con piacere tutto ciò che c'è mandatemi le vostre slide e mi mi noto per la prossima volta per poter dare una mano soprattutto per ascoltare ciò che i colleghi di interessante sanno dire buona buona vita grazie ancora e la salutiamo con estremo affetto grazie grazie professore grazie allora entriamo nel diciamo nel cuore dei lavori di questo seminario come dicevamo è un seminario che vuole essere un po' una continuazione dei nostri cicli sulla filiera pistica chi ci segue da un po' sa come appunto questo filone per noi è importante proprio perché trova una matrice territoriale una matrice che dà veramente la possibilità di lavorare a livello interdisciplinare questa giornata purtroppo passata il remoto doveva essere già in presenza ma lo faremo come promessa quest'autunno vuole essere però l'espressione di elementi chiave per andare in competitività di qualsiasi filiera ovvero la multidisciplinarietà e la coesione di sinergia e questo è un esempio che vuole fare un escursus di quelle che sono i nostri filoni storici di ricerca portandovi quelli che sono un po' gli aggiornamenti e anche le future idee i futuri approcci proprio perché il lavoro soprattutto nelle filiere delicate e potenzialmente totipotenti come quella pistica hanno bisogno di una matrice sinergica che deve essere un sodalizio tra gli stakeholder tra l'associazione di apicoltorità chi produce tra chi consuma e tra chi fa ricerca in quanto tutti noi allineati possiamo dare delle risposte efficaci a portare valore aggiunto al nostro paese quindi vorrei ricordare un po' il filo conduttore dei nostri lavori ponendo la centralità della filiera apistica nel cuore dei filoni di ricerca del polo di eccellenza di edolo che effettivamente raccorda e ha un coacervo di molti filoni di ricerca la filiera apistica è per noi da anni una filiera veramente importante proprio perché è l'espressione di quella che è una territorialità e quindi il sostegno del territorio ha proprio bisogno di entrare nel cardine di quello che esprime le filiere lo studio delle filiere agroalimentari sono ad oggi e da molti anni una obiettiva una centralità di quelli che sono i driver dell'unione europea della fao che ci impone di lavorare sempre più strettamente verso concetti per far arrivare la produzione alimentare al consumatore ma con un concetto chiave di equilibrio abbiamo sentito il professor calabrese parlare equilibrio per la salute non concepiamo il miele solo come un alimento zuccherino lo dobbiamo concepire nella polieditricità delle sue caratteristiche salutistiche nutraceutiche aromatiche di potenzialità per un territorio l'unione europea però ci presta si presta a darci delle direttive importanti dove la biodiversità ad oggi è un fondamento un driver che tutti noi dobbiamo seguire non solo perché esprime le potenzialità di un territorio ad oggi sentiamo molto parlare usare il termine di resilienza io chiamo la biodiversità un po la resilienza dei territori ovvero quella matrice di elementi che possono dare espressione senza fatica di un territorio ma dobbiamo accompagnare questi percorsi con competitività innovazione proprio per riuscire a far decollare quelle che sono le peculiarità è ovvio che il tutto deve andare collimando verso quella che è l'esigenza di un consumatore il consumatore risponde il consumatore si assume una capacità di spesa solo quando riconosce nelle produzioni un valore aggiunto non solo dal punto di vista salutistico ma quando è in grado di riconoscere la qualità totale di un alimento è in grado poi di rispondere in modo adeguato la filiera pistica non dimentichiamoci e quindi gli impollinatori dove l'ape non è il solo animale impollinatore ma fa parte di una comunità di elementi preziosissimi in quanto sono il responsabile dell'ottanta per cento della biodiversità se non avessimo gli impollinatori noi perderemmo risorse risorse che poi andrebbero ad erodere quella che la disponibilità di cibo quindi un elemento importante per tutta l'umanità abbiamo iniziato storicamente le indagini a supporto della filiera pistica con gli elementi più critici storicamente ci impegniamo costantemente ad approfondire che cosa sostegno poi delle produzioni nel comparto miele ma non solo il miele non dimentichiamoci che la filiera pistica si compone di tanti tasselli con dei prodotti che se veramente eh portati in innovazione ci danno l'espressione di quelli che sono dei dei potenziali farmaci abbiamo la propoli abbiamo la pappa reale abbiamo dei superfood come il polline non dimentichiamoci che la filiera pistica non è composta solo da miele in tanti anni in Unimont e con il nostro dipartimento di eh veterinario dell'Università di Milano ci preoccupiamo di eh prestare attenzione a quello che è forse la preoccupazione più alta degli apicoltori si sa che il cambiamento climatico pone le stagionalità per alcuni mieli molto molto in difficoltà il chiaro esempio la caccia che durante la primavera nel momento in cui ne abbiamo grandinate o temperature avverse pongono veramente questa filiera in forte crisi ma la centralità che abbiamo dato negli anni è di indagare veramente quali siano le pressioni critiche a cui sottoposta l'intera filiera sia in termini di ehm inflazione negativa su quello che è la popolazione delle api quindi i fattori che influiscono sulla ridotta vitalità delle api ma soprattutto i fattori incidenti che poi possono riflettersi come valore negativo sulle produzioni e mi riferisco alla presenza di pesticidi di contaminanti emergenti e tutte quelle sostanze che derivano in stretta relazione che oramai abbiamo dimostrato attraverso una molteplicità di lavori scientifici la stretta relazione che c'è tra l'inquinamento antropico inquinamento industriale le pratiche di frutticoltura agricoltura intensiva e il loro impatto in quello che è il contesto apistico molto importante per i contesti di produzione biologica io posso governare in modo ehm certosino in modo preciso il mio processo senza l'utilizzo di composti chimici di sintesi o altre sostanze ed essere comunque esposto a quello che è un inquinamento ambientale quindi non dimentichiamoci che la famosa preziosità dell'ape come sentinella sentinella ambientale espone anche veramente a una fragilità di filiera questo per noi è stato per anni un filone molto importante per riuscire a confermare anche l'importanza di quando si eh eh indaga un territorio la la preziosità di un territorio indagare anche i possibili fattori critici che possono impattare negativamente non dimentichiamoci dell'importanza delle filiere nel territorio la filiera pistica ne è un esempio quando noi indaghiamo un territorio è come se entrassimo in una dimensione per portare competitività in una dimensione noi non dobbiamo dimenticare dei fattori costituenti di ogni territorio da concepire un po' come un vestito su misura più calzanti ne siamo nell'esaminare quelle che sono le pressioni negative di un territorio le potenzialità più riusciamo a accompagnare percorsi coerenti per lo sviluppo e la competitività del settore non a caso ogni azione di innovazione deve avere un'efficacia in relazione al proprio contesto ne è un esempio e ho portato come esempio che ci riguarda perché la dichiarazione di label di marchio di prodotto di montagna ne è un esempio può essere una potenzialità molto importante ma nel momento in cui questo non viene riconosciuto al consumatore nel momento in cui non riesce a scendere a valle in competitività ovvero nel momento in cui il miele non riesce entrare nello scaffale del supermercato ed essere a disposizione e fruibilità questa tutela e valorizzazione è come se non riuscisse a raggiungere l'obiettivo finale non dimentichiamoci che il territorio è un sistema dinamico e complesso perché vi troviamo la tradizione vi troviamo elementi forti di sostenibilità e abbiamo detto il fattore preponderante della biodiversità da dover noi accompagnare in chiave innovativa attraverso sì politiche di sviluppo assi strategici ma con degli elementi che possano dare supporto ai produttori per poter veramente raggiungere una forza competitiva che nelle filiere polverizzate come chiamo come quella pistica veramente hanno bisogno di un'unica parola che forse è l'esempio che ci danno le api il lavoro di comunità il territorio si innova seguendo le cosiddette tre i che abbiamo codificato lavori di interdisciplinarietà innovazione che portano quindi l'integrazione di tutte le azioni efficaci che possono essere condotte una breve fotografia aggiornata del settore prendendo in esame la filiera del miele accanto a quelle che sono le pressioni negative un elemento positivo è che c'è una previsione un costante aumento del miele del consumo di miele in italia che si stima essere attorno ai 400 grammi pro capite anno e l'elemento interessante che è in aumento l'utilizzo del miele quale ingrediente alimentare quindi nell'industria dolciare in tutte le preparazioni e questo veramente è un elemento importante proprio perché può dare quello che è una dimensione sempre più competitiva delle produzioni ovviamente noi ci troviamo in un contesto globale competitivo in quanto l'europa si è il secondo produttore mondiale di miele ma abbiamo delle pressioni da porzioni di mondo come asia america lo sappiamo bene il comparto asiatico come preme per entrare in certi comparti europei e da qui l'esigenza di portare come centralità lavori di valorizzazione e caratterizzazione il consumatore ancora non riesce a riconoscere il miele come un alimento funzionale come un alimento non solo portatore di dolcezza ma veramente con un valore intrinseco di tanti elementi territoriali e questo lo confermano un po' il trend la bilancia dei trend di consumo se per le famiglie dichiarate da componenti di età adulta ad avanzata il trend dei consumi è in continuo aumento e si stima avere un trend di ascesa quello che infatti ci dà un po' la conferma del ruolo che noi abbiamo nella formazione verso un consumatore che poi viene venga guidato verso una scelta coerente il fatto che nelle famiglie soprattutto con figli piccoli ci sia una stima di trend in diminuzione per quanto riguarda il consumo di miele quindi attenzione perché questi segnali devono essere colti e direzionati con il supporto e sinergia di tutte le figure che possono comporre la filiera da chi si occupa di ricerca a chi si occupa di produzione a chi si occupa di portare politiche coerenti per il supporto di un intero settore quindi attraverso gli anni con i colleghi con progetti che sono esplosi a livello nazionale di cui l'ultimo recentemente concluso l'Italia Montalab un progetto dichiarato di grande rilevanza dal MIUR ci siamo premurati di puntare l'attenzione non tanto sulla peculiarità di mieli sì montani ma monoflorali ma abbiamo focalizzato l'attenzione sulla caratterizzazione dei millefiori di montagna perché ci siamo spostati dalla unifloralità a concepire un millefiori per uno semplice motivo noi consumatori stessi siamo prontamente ehm proni a pensare che il miele uniflorale pensiamo la caccia una robinia un rododendro un castagno abbia un valore qualitativo più elevato e e tutti noi abbiamo insito questo concetto non concependo come un millefiori che magari addirittura non si presenta così fluido piuttosto granuloso non abbia quella valenza di caratterizzazione qualitativa veramente importante e qua appunto abbiamo scelto di puntare sul cavallo di battaglia che poi si è rivelato assolutamente vincente ovviamente il millefiori di montagna può essere dichiarato un'eccellenza delle Alpi ma espone anche tutta la filiera delle problematiche quindi da un lato molto positivo ma dall'alto il millefiori di montagna come tante produzioni montane è anche caratterizzato da una variabilità a seconda delle aree di bottinatura e molto spesso gli apicoltori sono in difficoltà perché in termini previsionali il miele che loro ottengono posizionando le aree in determinate fasce di altitudine spesso non corrisponde al miele finale eh che viene prodotto. Non vorrei spaventarvi con analisi e con grafici abbastanza incomprensibili ma la il bel impatto di questo grafico è la risultante lo si vede dai molteplici colori dei grafici come l'analisi approfondita con tecnologie che ad oggi sono diventate veramente molto molto importanti è riuscita ad evidenziare mettere luce per dei mieli che abbiamo campionato d'alta quota ovviamente tutti i mieli di millefiori come delle componenti che il professor calabrese ci ha chiaramente spiegato essere preziosi nei mieli tra cui flavonoidi acidi fenolici chinolonici quindi preziosi alleati funzionali del miele con proprietà antiossidanti siano effettivamente caratterizzanti in quello che è il grafico rosso che noi vediamo le tecniche ad oggi che utilizziamo sono tecniche che eh se sentiamo parlare definite omiche perché sono tecniche altamente descrittive e quindi ci possono dare uno strumento prezioso per andare a capire profondamente le caratteristiche dei vari mieli e quindi le potenzialità che poi possiamo direzionare specificatamente in azioni di innovazione più conosciamo più direzioniamo correttamente tutte le attività abbiamo scoperto degli elementi importanti in questi mieli la presenza di quello che è l'acido chinurenico caratterizzante in particolare il miele di castagno ma anche l'abbiamo trovato nei millefiori importante perché perché aiuta addirittura a capire quella che è la relazione tra il comportamento dell'ape e quindi a darci delle profonde informazioni indicazioni importanti proprio per le problematiche anche di migrazione delle api a seconda della stagionalità ma la cosa più interessante è che sono immersi dei composti che tutti noi abbiamo caratterizzato come nuovi siamo riusciti a scrivere nuove formule di struttura a dare il nome e cognome a nuove sostanze che si sta scoprendo che hanno un'importante azione antiossidante quindi quando non si capisce il perché prendendo un po' di miele si hanno efficacia contro determinate patologie contro raffreddore contro mal di gole quant'altro non dimentichiamoci che stiamo continuamente scoprendo sempre più composti potenzialmente alleati alleabili per la salute questi sono altri nuovi composti vedete che addirittura non siamo stati in grado di dare un nome preciso alla molecola ma l'abbiamo chiamato proprio col suo nome chimico quindi proprio eh a testimoniare come sempre più eh il lavoro di ricerca può darci delle novità veramente interessanti non dimentichiamoci l'attività antiossidante di cui parlava professor Calabrese se il mondo del consumatore è eh chiaramente eh prono a pensare che il miele di manuca sia uno dei mieli più potenti dal punto di vista antiossidante potete ben vedere dal grafico come alcuni dei mieli abbiano assolutamente dei connotati interessanti il miele catalogato come F con miele di mille fiori di montagna assolutamente si avvicina come attività antiossidante al miele di manuca e tutte queste tutti questi riscontri ci hanno dato anche l'orgoglio di posizionare insieme anche i colleghi del Piemonte Orientale con i nostri colleghi dell'Argentina un bellissimo lavoro pubblicato su scientific report che ricordo è il redazionale scientifico della rivista Nature. Perché parlare di miele prodotti apistici? Perché ad oggi il consumatore è bombardato da messaggi che scarsamente riconosce ma riconosce gli slogan i superfood ovvero è disposto a spendere ad assumersi la capacità di spesa per qualcosa che abbina e correla un beneficio per la salute e noi quando troviamo il superfood cosa cosa concepiamo? Nei vegetali determinati semi, il miele, la pappa reale, la frutta secca e quando parliamo di miele superfood se chiediamo a cento consumatori qual è secondo te il miele migliore come capacità antiossidante beneficio per la salute risponde il miele di manuca. Attenzione attenzione perché tante volte il rischio di incorrere nello slogan è veramente molto alto per quello che è un eccesso di comunicazione e di marketing. Il nostro ruolo è proprio questo informare e formare. Formare vuol dire guidare il consumatore e se noi non facciamo passare i messaggi corretti non potremo mai avere una risposta coerente di un consumatore che sceglie e tutti noi lo siamo in prima istanza. L'innovazione io adesso lascerei la parola ai colleghi perché questo eh ambito verrà ampiamente adesso dissertato perché noi abbiamo finora fatto lavori di tutela autenticazione di caratterizzazione di eh messe in luce di potenzialità importanti. L'innovazione della filiera epistica è creare qualcosa di nuovo, sfruttare le totipotenze che si hanno e volevamo oggi proprio darvi il focus di alcuni esempi pratico applicativi ma soprattutto di direzionamenti di ricerca che sono l'espressione di fattori che prima ho annunciato la multidisciplinarietà. Non a caso il prossimo intervento sarà tenuto dal nostro collega della sapienza ingegnere perché ci si chiede che cosa serva l'ingegneria in quella che è l'innovazione alla filiera epistica assolutamente imprescindibile. Se noi vogliamo creare come vedremo dei componenti funzionali abbiamo poi a un certo punto bisogno di modellazione per standardizzare proprietà e processi perché un prodotto epistico possa trovare spazio in una parafarmacia e non semplicemente in un supermercato. abbiamo bisogno di biochimici e quindi solo la multidisciplinarietà, le competenze, l'aggregazione possono effettivamente darci un vantaggio competitivo collettivo. Quindi ritorniamo dopo sulla chiave innovativa per quanto riguarda l'apropoli e per ora mi fermo qui perché entriamo proprio nel vivo di questi casi applicativi. Io darei la parola adesso al professor Zorro che con cui abbiamo appunto da un anno intrapreso una proficua e sinergica collaborazione proprio perché ci rendiamo conto che lavorare su nuovi prodotti richiede l'attenzione in focus veramente con competenze assolutamente multidisciplinari. Grazie, ringrazio. Spero che mi sentate bene e che vediate intanto la presentazione. L'oggetto del mio intervento sarà essenzialmente proprio questo, come l'approccio ingegneristico possa portare a uno sviluppo di preparati che basati chiaramente sul miele consentono di poterli utilizzare in altri ambiti che non necessariamente sono quelli dell'alimentazione o della dolcificazione degli alimenti. Questo lavoro in primis è partito dalla validazione, dalla caratterizzazione di preparati di mieli diversi, essenzialmente quelli che abbiamo preso in considerazione sono stati quelli a base di mieli diabete, di eucalipto, timo e metcalfa e ne abbiamo voluto misurare le attività come proprietanti batteriche sia su batteri gram positivi che batteri gram negativi. Per questo scopo, oltre di viverli in due terne, abbiamo preso in considerazione diversi ceppi, sicuramente gli Escherichia coli e Staphygox aureus come espressione di gram positivi e gram negativi e degli altri ceppi particolari batterici perché medicilino resistenti o comunque perché resistenti agli attuali antibiotici. Questo perché da un lato se ne è voluto testare le proprietà proprio per conoscerne le possibilità di applicazione in campi un po' più distanti dell'alimentazione e dall'altro perché sappiamo tutti che c'è un problema di antibiotico resistenza ormai a livello europeo che viene affrontato o comunque che deve essere affrontato con serietà. Il nostro approccio alla fine è quello di discretizzare tutto il campo delle possibili composizioni che potrebbero avere questi preparati per mezzo della cosiddetta tecnica del mixer design, ossia tutto il campo delle infinite composizioni viene discretizzato in un certo numero di punti finito e per ciascuno di questi punti ne vengono misurate le proprietà, il che genera sì un quantitativo di prove non piccolo, qui ad esempio ne presentiamo chiaramente solamente una parte, ma ciò che è più importante è che questo quantitativo di prove è tutto sommato limitato per quelle che sono poi tutte le informazioni che è in grado di conferirci. Infatti oltre a misurarne le capacità appunto antimicrobiche, scusate le antibatteriche in ciascuna di queste possibili composizioni, ciò che è più importante è poi andarle a rappresentare sia bidimensionalmente sui vari triangoli con cui identifichiamo le due terne, una testata contro gli Escherica coli, quindi espressione dei gran positivi e l'altra su Staphyloccus aureus, ma soprattutto ci permette poi nella fase successiva di, questa è l'altra terna chiaramente verificata, di andare a poter ottimizzare la composizione per entrambi gli scopi, per entrambi i ceppi, le tipologie di ceppi batterici. Ed ecco che quindi oltre a confrontare, a vedere come per la stessa specie batterica, preparati diversi in alcuni casi, lo vediamo qui nel caso degli Escherica coli, hanno tutto sommato attività similare, nel caso invece della loro attività contro Staphyloccus aureus non possiamo dire la stessa cosa perché in alcuni preparati hanno un'attività, un preparato ha un'attività sensibilmente maggiore in alcune composizioni rispetto all'altro. Possiamo chiaramente visualizzare tutto ciò anche per quanto riguarda un confronto per terna di mieli e anche qui vediamo che l'attività espressa a parità di preparato è sostanzialmente differente se la vediamo nei confronti delle Sterichia coli o del Staphylococcus aureus, ma come dicevo, come anticipavo prima, ciò che è più importante è quello di consentirci di andare a modellizzare il sistema perché quello che noi alla fine vogliamo ottenere come informazione non è certo il comportamento nei punti che noi abbiamo determinato come utili alla discreditazione dell'intero intervallo delle composizioni, ma quello che vogliamo ottenere è un modello che permetta di descrivere tutte le possibili composizioni e quindi ottenuto poi l'espressione matematica poterlo andare a stressare diciamo così matematicamente e identificare così le condizioni ottimali. Il modello che abbiamo utilizzato in questo caso è un modello cubico come come potete vedere in cui i coefficienti alla prima potenza o meglio i coefficienti davanti ai singoli preparati rappresentano l'influenza di quel singolo preparato, poi abbiamo i coefficienti delle interazioni binarie e infine quelle dell'interazione ternaria dell'intera miscela. Se presentiamo ciò come superfici, come control plots, quindi come linee di livello dell'attività ottenuta ci dà un'informazione che anche in questo grafico a falsi colori c'è un'attività piuttosto diversa a seconda di quella che è la miscela presa in considerazione. Anche in questo caso abbiamo qui l'attività nei confronti delle scherichia coli e dello stafricologo opusaurus in primis, ma successivamente ci ha permesso di andare a combinare le due attività per ricercare attraverso una cosiddetta desirability function dove potesse cadere un massimo che andasse nello stesso momento a ottenere una sufficiente azione contro i gram positivi e parimenti contro i gram negativi. Come vedete otteniamo quindi una superficie di risposta con una sua curvatura che permette quindi di edificare il massimo. Ciò che forse risulta ancor più visibile quando nella seconda terna investigata, quella a base di Metcalfa, Beta e Timo, andiamo a combinare l'attività di questo preparato in confronti dei gram positivi e gram negativi che ha dei massimi, quindi dei punti di efficacia massimale che cadono in regioni diverse e che quindi quando accoppiate insieme attraverso la funzione di disabilità consentono di ottenere chiaramente un punto di espressione ottimale che è poi quello che è stato preso a base per la produzione di un preparato oggi in commercio che senza adesso fare pubblicità comunque messo in commercio con una nota azienda di produzione di miele che non trova che trova posto sia sicuramente sia nei scaffali del supermercato ma è venduto essenzialmente come integratore alimentare e quindi di aprendo per il settore un mercato per certi versi innanzitutto differente ma per certi versi anche molto più ricco. Ovviamente il modello una volta ottenuti i suoi parametri è stato testato con prove di validazione in punti non precedentemente testati e i risultati delle prove di validazione hanno visto che in primis, hanno messo in uso che in primis il modello è ben rispondente e questo ovviamente ci conforta nell'operare tutte quelle operazioni poi di previsione che devono essere fatte quando ci troviamo a lavorare con mieli diversi intendendo che sono di diversa tipologia o di produzione diversa ossia di produttore diverso. In ogni caso il modello ci permette di prevedere quale sarà il comportamento e quindi dove andare a candere l'ottimo. In questo invece grafico presentiamo quello che è stata poi l'attività di espansione del lavoro di ricerca verso appunto dei ceppi particolarmente interessanti perché si ritrovano in isolati clinici che abbiamo ottenuto da colleghi di corsia in ospedale e dove questi ceppi batterici hanno presentano una difficoltà di risposta rispondono poco o nulla all'attività, agli antibiotici correnti. In particolare abbiamo qui un Staphylococcus epidermidis medicilino resistente e un Staphylococcus aureus medicilino resistente. Come si può vedere già in questo primo grafico, l'alone di inibizione che è quello che poi ci dà il sentore, c'è l'indicazione se stiamo esprimendo l'attività ricercata, risulta per alcuni di questi, in particolare per l'epidermidis medicilino resistente, risulta particolarmente rispondente a questo tipo di approccio, candidando quindi preparati a base di queste terne di mieli come dei preparati utili per il trattamento di tessuti epiteliari che potrebbero essere aggrediti da questo patologico. L'idea qual è? È quella di arrivare alla produzione chiaramente di altre tipologie di prodotti che sono in questo caso garze, e qui è chiaramente mostrato un piccolo esempio, un campione che ci è servito per testare l'inibizione successiva che si può ottenere con una garza impregnata con questi preparati a base di mieli differenti e come potete vedere, candidano da queste immagini e effettivamente si riesce a ottenere un alone di inibizione e che quindi alle opportune concentrazioni si può prevedere di produrre delle carte medicate che contengono già i preparati dosati nella maniera ottimale per ottenere l'effetto desiderato, ossia la protezione contro lo Staphylococcus aureus metilicilino resistente, come in questa prima foto sulla sinistra, e lo Staphylococcus aibitermidis nella slide di destra. I risultati chiaramente ci hanno, sono stati testati queste attività anche utilizzando dei preparati singoli e questo perché prima di trovare la miscela ottimale con cui poi andare a produrre il prodotto commerciale, la garza impregnata, quindi la garza già medicata, dobbiamo conoscere le attività, come dicevo prima, dei singoli preparati al fine di ingegnerizzare il prodotto nella sua interezza, nella sua formulazione finale. Le evidenze di questi batteri antibiotico resistenti contro questi batteri antibiotico resistenti, le abbiamo testate su diversi ceppi, questi sono anche quelli che avevo appunto già mostrato prima, ma ne abbiamo testati ovviamente anche degli altri e in ognuno di questi casi, come potete notare, c'è un alone di inibizione abbastanza interessante, degno di essere valutato, che ci spinge, o meglio ci ha spinto, a continuare nello sviluppo di questa linea di ricerca e per arrivare appunto alla produzione di garze medicate per uso commerciale, per automedicazione. L'attività attualmente dove si sta spingendo? Si sta spingendo anche nel contrastare quello che viene detto, quello che è comunemente indicato come quorum sensi, ossia la popolazione batterica deve arrivare a una concentrazione minima per potersi, diciamo, per poter essere sufficientemente forte da essere resistente nei confronti degli antibiotici che noi chiaramente mandiamo dall'esterno al fine di rimuoverla. E quindi bisogna lavorare anche prima nel contrastare la costituzione di questa colonia, per così dire, per contrastare questo quorum minimo che gli consente di avere queste proprietà maggiori e quindi esprimere questa difficoltà ulteriore. In questo caso quindi i test sono stati fatti utilizzando come batterio, un batterio appunto dal laboratorio che è il cromobacterium violaceum nella sua espressione della violaceina e tanto più contrastiamo l'espressione della violaceina, quindi l'alone inibiezione in questo caso della violaceina, tanto più identifica che il nostro miele è particolarmente attivo nei confronti di questa, nell'attività di antiquorum sensi. Come vedete tutti i mieli, questo io volevo metterlo in luce subito, tutti quelli che abbiamo testato presentano questa attività, chi più chi meno. In particolare il nostro lavoro, diciamo un approccio ingegneristico, noi siamo andati a vedere proprio le curve, le pendenze delle curve di decadimento e ciò ci ha permesso di assegnare uno score a questi preparati e a questi mieli e i maggiormente rispondenti, maggiormente attivi sono risultati quelli di Timo e quelli di Eucalipto. Ora, prima di presentare l'ultima parte, che è un po' il lavoro su cui ci stiamo concentrando in questi ultimi anni, volevo ancora sottolineare come questa può essere un'attività non in antagonismo con il miele ovviamente da utilizzare in campo alimentare, ma parallela. E potrebbero essere destinatari di questo interesse, ad esempio, quei mieli che trovano poco o nullo favore da parte del mercato, che invece quindi potrebbero essere utilizzati per uno scopo ben diverso da quello alimentare. Allora, dicevo, su cosa ci stiamo concentrati in questo periodo? Nel contenere, sia per stabilizzare e quindi utilizzare in un secondo momento, sia per creare anche dei veri e propri nutraceutici a base di miele. Quindi vogliamo produrre delle microcapsule che hanno quindi, sono delle microsfere con una parte esterna detta shell e una parte interna detta core, appunto, dove all'interno mettiamo il nostro preparato a base di miele, che quindi presenta la sua attività antimicrobica ed è fortemente ricco di antiossidanti, come ci indicava prima in apertura il professor Calabresi. E nella parte esterna la protezione che evita che questi antiossidanti nel corso del tempo, prima del loro utilizzo, si vadano a degradare. Ciò lo facciamo con la produzione di queste microcapsule all'interno di alcuni apparati, che qui mi piaceva mostrarvi, che essenzialmente fanno cadere delle piccole gocce di preparato opportunamente disperso in un mezzo che consente, che fa sì che queste gocce cadendo pian piano all'interno di questo campo si vanno effettivamente a solidificare in questa struttura core and shell, dove nel core all'interno abbiamo le miscele di miele e all'esterno la loro protezione. Questo è uno schema per passi, come di quello che appunto vi indicavo poco fa, e che consente appunto di ottenere queste microsfere che sono poi utilizzabili in un secondo momento. L'utilizzo finale è chiaramente quello di poterli ottenere in forma solida e questo dà, magari per molti potrebbe essere non un risultato banale o non così lampante, ma in realtà permette una maneggevolezza industriale non di poco conto, oltre che la stabilità che ho già menzionato prima, perché permette di poterli inserire in capsule di nutraceutici, ad esempio rigide, che hanno un costo nettamente inferiore rispetto a capsule e mogli, che sono invece le uniche indicate per contenere dei liquidi. Quindi sviluppiamo ancora questa attività in stretta sinergia tra l'altro con altri gruppi, come quello della professoressa Panzeri, che vi ringrazio per averci invitato in questo interessantissimo incontro, perché se da un lato noi possiamo appunto in un'ottica di collaborazione procedere a fornire le nostre competenze ingegneristiche nella ottimizzazione dello schema sperimentale, nella interpretazione dei risultati ottenuti tramite dei modelli e nella successiva ottimizzazione dei preparati, dall'altro chiaramente abbiamo bisogno di una forte attività analitica che ci caratterizzi appieno sia le materie prime da cui partiamo, sia i prodotti finali al cui giungiamo. Vi ringrazio per l'attenzione e metterò i miei contatti in chat per chi avesse qualche curiosità ulteriore da chiedere. Grazie mille professor Zorro della direi interessantissima presentazione che mette in luce veramente delle potenzialità in chiave innovativa veramente molto molto importanti. Quindi qual è la frontiera sinergica che ci stiamo apprestando a così varcare di iniziare come lavori sperimentali è proprio se abbiamo visto i test fatti su mieli di eucalipto, mieli che comunque già di mostravano una certa positività nel candidarli come azione antibatterica o batterio statica andremo avanti a testare le peculiarità del territorio perché quello che noi abbiamo sono veramente dei composti funzionali che il miele trascina ma che sono la diretta relazione della popolazione floristica di un territorio. Proveremo mieli di rododendro, mieli di alta quota, sempre millefiori, mieli di elicriso perché abbiamo una multifloralità territoriale che veramente ci può dare importanti importanti chiavi di innovazione. Grazie ancora. Io darei ora la parola in successione ai colleghi professor Ranzato e professoressa Martinotti dell'Università del Piemonte Orientale che ci mostreranno come di nuovo il miele possa essere un prezioso alleato sì nella nutraceutica ma in quello che è proprio veramente l'attività rigenerativa. Concepire il miele con un prezioso alleato di attività rigenerativa, tissotale e quant'altro vuol dire veramente avere delle armi preziose tra le mani. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, ringrazio la dottoressa Panseda, la professoressa Giorgi per questo graditissimo invito, spero che la mia presentazione si veda già. L'abbiamo divisa con la collega Martinotti in due parti, io farò una parte introduttiva del perché il nostro gruppo è arrivato a studiare il prodotto miele mentre la professoressa Martinotti subito dopo entrava in dettaglio sulle proprietà, sulle caratteristiche del miele. Giusto per introdurre chi siamo, noi lavoriamo all'Università del Piemonte Orientale con l'Università che è dislocata su tre sedi in Piemonte, Alessandria, Vercellia e Novara, il nostro gruppo di biologia cellulare e fisiologia e lavora nel Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica che si trova ad Alessandria. Il nostro gruppo ormai da diversi anni si occupa di meccanismi di riparazione delle ferite sotto diversi punti di vista, testando con modelli cellulari e molecolari in litro, sia prodotti di tipo medicale, sia materiali ingegnerizzati, scaffold e soprattutto anche composti naturali. In particolar modo in questo ambito, quello dei composti naturali, abbiamo esplorato in questi ultimi anni diversi prodotti estremamente interessanti, anche partendo da considerazioni, da suggerimenti sui stessi tipo di etnomedicina e di etnofarmacologia, abbiamo utilizzato composti come essenze dell'Oceolosso Vulgato piuttosto che composti derivati dai ricchi. Ma in particolar modo, sul mondo artistico, a miele, su cui ci siamo concentrati questa sera, i propoli, che invece abbiamo ottenuto dei dati particolarmente interessanti. Miele e la storia dell'uomo si intrecciano fin dall'antichità e in effetti miele come rimedio naturale, non solo come primo zucchero, primo alimento che fornisce una base di zucchero, si conosce praticamente dall'antichità, ma oltre a quest'azione alimentare, il miele dalle tradizioni antiche viene utilizzato con delle applicazioni estremamente interessanti ed importanti. Oggi conosciamo bene l'esistenza di prodotti commerciali anche nel nostro paese, che hanno anche un discreto successo, come dire, tra il pubblico, che contengono miele, in particolar modo un tipo di miele, che è miele di manucra, ma non solo, e che hanno un effetto positivo sia dal punto di vista cosmetico, cosmetologico, ma non solo, un utilizzo positivo anche nella riparazione delle ferite. E in particolar modo, come mi ha anticipato il professor Uzzorro, noi abbiamo nel mondo del miele, conosciamo molto bene l'attività antibatterica del miele, si conosce da tantissimo tempo, anzi prima dell'avvento degli antibiotici, il prodotto miele, il miele era, come dire, in non plusulto, proprio per diverse caratteristiche che rendono il miele un ottimo antibatterico antitropico. Giusto per tagliare questa storia molto lunga sull'azione antibatterica del miele, volevo citare alcune delle azioni, delle proprietà del miele come antibatterico, l'azione osmotica, grande contenuto di zuccheri che in breve impediscono la crescita di microrganismi, la discreta acidità del miele che di nuovo impedisce la crescita di patogene e anche di diversi tipi di batteri. E ultimo, ma non meno importante, il miele per un'azione enzimatica, questa disegnata riportata in basso, opera di un enzima prodotto dalle viandole salivare delle acque, la glucosa ossidante, libera a produrre continuamente una molecola estremamente interessante che è l'acqua ossigenata, il perossido di drogela. Ovviamente questa acqua ossigenata viene prodotta a livelli abbastanza bassi, molto bassi, ma questa acqua ossigenata diventa una molecola estremamente interessante, sia per le proprietà antibatteriche del miele, ma non solo. Infatti diversi anni fa, devo dire nel 2010, il nostro gruppo iniziò a valutare, partendo da questa esperienza di tissue repair, di riparazione e rigenerazione delle ferite, iniziò a approcciarsi al mondo a piste, miele e propoli chiedendosi se il miele fosse utile nella riparazione delle ferite, solo come antibatteri, oppure se ci fossero delle altre proprietà, degli altri incentivi. In particolar modo ci siamo chiesti se il miele potesse favorire la riparazione delle ferite, se aiutasse o facilitasse la produzione di collageno o se addirittura fosse in grado di indurre i modelli, cioè il rimodellamento della matrice extracellulare, quindi sostanzialmente del supporto che sta sotto la nostra pelle. E mi piace sempre ricordare questa frase di questo filosofo della scienza, in cui si dice che la ricerca è fatta di quattro cose, un cervello con cui pensare, io aggiungo che ce lo proviamo a mettere, occhi con cui vedere, macchine con cui fare delle misurazioni, gli esperimenti in laboratorio, è ultimo ma non meno importante denaro, cioè soldi, perché ahimè gli esperimenti costano. Infatti in quell'anno tra 2010 e 2011 abbiamo iniziato a lavorare nel mondo del miele, siamo introdotti in questo ambiente per valutare le proprietà sulle cellule della pelle del miele grazie a un finanziamento che è arrivato da molto lontano, una fondazione giapponese, che ci ha permesso di iniziare i nostri studi su tre tipologie di miele, il miele di Manuka, Salva San Dier, un miele molto interessante che è il bacco di miele della nostra rocena e poi un miele molto più vicino ai nostri territori che il miele di Acacia. E ora lascio la presentazione, lascio lo schermo alla mia collega, la professoressa Simona Martinotti, in modo che possa proseguire sulla parte più scientifica e sui risultati che abbiamo ottenuto e dove miele fa veramente effetto. Giusto come informazione per la regia, credo che Simona Martinotti non riesca ad attivare l'auto e del suo collegamento. Riuscite a vedere la mia presentazione? Perfetto. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Partendo da quello che sono state le slide introduttive del professor Ranzato, io andrò avanti in quelli che sono stati quelli che erano proprio gli esperimenti per andare un pochino più in profondità e nel nel dettaglio di quello che è l'azione del miele nella rigenerazione tessutale e ci è piaciuto mettere questo questo titolo un'insolita questione di calcio perché essendo io una una fisiologa a queste volentieri vado sempre a ricercare quello che è l'azione del calcio in tutti i nostri processi cellulari e molecolari. Ovviamente se non va avanti ok ovviamente ne siamo partiti da quello che era la nostra expertise nella nello studio della rigenerazione tessutale con quello che è un test che apparentemente sembra molto banale che è lo scratch from the state eh ma che ci permette di ottenere dei dati molto eh interessanti e soprattutto un buon punto di partenza per indagare le proprietà rigenerative di una qualunque sostanza ehm in pochissime parole in cosa consiste questo questo test consiste nel ehm seminare le le cellule in questo caso i keratinociti quindi eh le cellule più eh presenti nello strato epidermico della della nostra tute eh seminarle sulla su una piastra apposta in modo tale da eh permetterne la crescita fino al raggiungimento della completa occupazione dello spazio a disposizione delle cellule a quel punto eh abbiamo ehm fatto noi una una ferita su questo monostrato cellulare e lo possiamo vedere in questa in questa immagine quindi avevamo proprio un eh un punto di eh di stacco tra quelli che mimavano i due lembi di una di una ferita e potevamo misurare eh la distanza tra questi due tra questi due lembi aggiungendo poi una una sostanza di cui vogliamo verificare la la potenzialità in termini di rigenerazione più totale eh con lo scorrere del del tempo e delle ore possiamo andare a valutare quello che è l'avanzamento del eh del fronte del del margine della della ferita fino a arrivare a a un certo punto che eh lo la la zona che era vuota da da cellule era eh non presentava cellule perché le avevamo portate via facendo il il taglio eh veniva ricolonizzato dalle dalle cellule quindi potevamo andare a valutare andando ovviamente a fare una differenza di quello che erano i minimi spazi ancora eh misurabili dopo ad esempio otto ore ma anche ventiquattro ore eh in in presente di trattamento facendo la la differenza e il confronto con quello che c'era all'inizio potevamo valutare quanto la sostanza in particolar modo eh in questo caso il il miele che consideravamo eh potesse aumentare il il tasso di rimarginazione di questa ferita. in prima battuta eh abbiamo utilizzato appunto il come modello cellulare abbiamo utilizzato i teratinociti e i fibroblasti banalmente perché eh queste due tipologie cellulari sono le più presenti nella nella cute e quindi immaginando di eh mimare in vitro quelle che erano eh le le popolazioni cellulari presenti in un'acute eh soggetta ad un ad una ferita piuttosto che a una discontinuità dovuta a un trauma eh abbiamo valutato l'effetto sui teratinociti e sui fibroblasti e abbiamo utilizzato i tre mievi che ci erano stati forniti dalla eh dalla dall'Aimada Bifarm che è la la fondazione che ci ha eh finanziati e come potete vedere abbiamo utilizzato il miele di manuta, il miele di basti o grano per cena e il miele di acata. nei grafici che potete osservare c'è anche un eh preparato clinico ovvero il lisato piastrinico di cui abbiamo eh determinato eh la caratterizzazione molecolare e eh effettiva in termini di rigenerazione tistutale e quindi è quello che noi abbiamo utilizzato come eh punto di di riferimento per confrontare l'attività del miele ehm in termini di rigenerazione tistutale. ehm ovviamente questo è un preparato clinico che deriva dalle piastrine quindi ha un elevatissimo potere eh di induzione della rigenerazione tistutale però se noi guardiamo eh il l'effetto eh prodotto dai dai trenieri possiamo vedere che eh il risultato finale non era poi così diverso rispetto al prodotto eh di di origine di origine clinica. ovviamente però come dicevo è una particolare eh storia di di calcio e quindi siamo andati a vedere visto e considerato che eh l'ione calcio rientra come eh driver e come ehm driver di tutte tutte tutta una serie di processi biologici eh abbiamo voluto verificare se come e in quanto eh in quanto eh in quanto influenza poteva avere sulla sulla rigenerazione tistutale. ovviamente però dire calcio a livello cellulare vuol dire tutto e vuol dire niente perché eh noi possiamo avere molte vie di di ingresso dall'esterno della 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 nostra cellula ma possiamo anche avere tutta una serie di punti a livello interna dalla della nostra cellulare che che controlla che contengono calcio e che al momento eh più opportuno e nel momento in cui eh è necessario l'innesso di un certo eh percorso di un di un certo passo in molecolare viene rilasciato in quello che è eh la parte di citoplasma che normalmente vede una concentrazione di calcio bassissima. Questo studio del calcio da dove entra, da dove viene rilasciato e come modula l'attività di rigenerazione tessutale indotta dal miele ci ha portato, sempre studiando i cheratinociti, a definire questo primo schema in cui vediamo che sono alcune proteine presenti sulla membrana cellulare che intervengono in questo meccanismo. Prima fra tutte l'acqua corina 3 che è una proteina che normalmente fa entrare e veicola l'acqua all'interno della nostra cellula ma in particolar modo l'acqua corina 3, essendo una ferossi corina, permette anche l'ingresso di acqua ossigenata, quella famosa acqua ossigenata di cui il professor Ranzato parlava prima e che ha detto effettivamente può essere molto utile per l'attività antibatterica ma non solo. L'acqua ossigenata che viene prodotta normalmente dal miele entrando attraverso l'acqua corina 3 nelle nostre cellule, essendo in una concentrazione non eccessiva, quindi non dannosa per le nostre cellule funzionanti come un pungolo, come un trigger per iniziare tutto il percorso di stimolazione cellulare che porta poi alla rigenerazione tessutale. Una volta che l'acqua ossigenata ha potuto entrare all'interno della nostra cellula può andare a stimolare l'apertura di un canale del calcio presente sulla membrana quindi noi abbiamo un grande aumento del calcio all'interno della nostra cellula sia attraverso questo canale che si chiama TRPM2 sia attraverso quest'altro canale che si chiama ORAI1. L'aumento di calcio che però viene mantenuto in concentrazioni non dannose per la nostra cellula inizia tutto quello che è il percorso della rigenerazione tessutale. Questo è il punto di partenza ma stasera volevo parlarvi di un'altra parte del nostro lavoro che è molto più recente ovvero quello che può essere rivolto dal miele su un particolare tipo di tessuto che assolutamente può essere coinvolto in tutta una serie di problematiche, di danni che possono derivare da un trauma come può essere una ferita, un uscione o quant'altro ma può anche subire gravi danni da quello che può essere il nostro stile di vita e quindi ad esempio il fumo, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia e tutta una serie di situazioni che possono andare a danneggiare questo particolare tessuto ovvero l'endotelio. L'endotelio è il rivestimento più interno di tutti quelli che sono i nostri vasi sanguini ed è quello che deve assolutamente rimanere integro per mantenere una certa barriera tra quello che è il tessuto che forma la parete dei vasi e l'interno che è il punto dove appunto scorre il sangue per andare a irrorare tutti i nostri tessuti. Sostanzialmente abbiamo proceduto nello stesso identico modo, quindi siamo partiti da quello che è lo scratch wound estate quindi se e quanto il miele poteva essere in grado di aumentare il riavvicinamento di questi lembi quindi fondamentalmente siamo andati a valutare quello che era la possibile induzione di migrazione delle nostre cellule in questo caso però se guardate il nostro grafico ci siamo concentrati non tanto sul miele di Manuka che fino a qualche anno fa avevamo preso come punto di riferimento banalmente perché era quello anche molto più presente in quello che era la letteratura scientifica ma ci siamo focalizzati sul miele di grano saraceno proprio perché nonostante questo provenisse dall'altra parte del mondo il miele di grano saraceno è un miele che anche nei nostri territori si può trovare e di conseguenza volevamo far vedere che non c'è solo ed esclusivamente il miele di Manuka che può avere una grande potenzialità ma anche mieli che normalmente non vengono considerati così eccellenti dal punto di vista della rigenerazione testuale. Se guardiamo le immagini, queste sono proprio le nostre cellule su cui abbiamo fatto il test dello Scratch with the Stay questo è il punto di partenza, quindi il controllo dopo 24 ore senza nessun tipo di trattamento vedete che i due lembi della nostra serita non sono particolarmente vicini aumentando la concentrazione di miele possiamo vedere un aumento anche della vicinanza dei lembi della nostra ferita. Le concentrazioni che abbiamo deciso di utilizzare sembrano molto vaste ma credetemi sono molto importanti in termini di stimolazione della migrazione di tutto quello che è il percorso molecolare che ne determina l'efficacia abbiamo poi deciso, visto che queste tre concentrazioni fondamentalmente non erano così diverse una dall'altra, abbiamo deciso poi di proseguire tutta la caratterizzazione del percorso molecolare con la concentrazione intermedia di 0,5% di miele a fronte sempre di un controllo in cui non veniva aggiunto assolutamente nessun tipo di miele o di induttore dicevamo il calcio è un punto cruciale nell'indizione della rigenerazione tessutale come di tanti effetti presenti nelle nostre cellule e quindi ci siamo focalizzati su questo aspetto attraverso un imaging ottenuto dalla microscopia confocale in modo tale da poter mettere in evidenza come si vede in questa immagine che purtroppo è in bianco e nero ma l'avessi messa a colori probabilmente avrei bloccato tutto perché l'immagine sarebbe stata veramente molto pesante ma voi immaginate questa immagine anziché in bianco e nero in verde perché noi andiamo a visualizzare gli aumenti di calcio all'interno delle nostre cellule con una sonda verde quando vedete le cellule che si illuminano fondamentalmente noi allo strumento vediamo delle immagini di cellule che si illuminano completamente di verde e poi vedete decade la fluorescenza questo vuol dire che questo aumento di calcio questa variazione così importante di calcio non è una variazione che può portare le nostre cellule a una morte cellulare per eccesso di calcio a livello cicloplasmatico l'abbiamo registrato è molto bella l'immagine delle cellule che si illuminano ovviamente abbiamo dovuto fare delle vere e proprie registrazioni di quelle che erano le variazioni di calcio e come possiamo vedere nei picchi che abbiamo registrato con diverse concentrazioni di miele noi veramente nel momento in cui andiamo ad aggiungere la soluzione contenente il miele che è indicata dalla freccia abbiamo un picco di aumento della concentrazione di calcio che poi poco per volta ritorna alle concentrazioni basali di conseguenza abbiamo l'innesco di quello che è la risposta ma poi si ritorna a una concentrazione normale in modo tale che le nostre cellule si siano state stimolate ma possano continuare a sopravvivere anche perché è quello che noi vogliamo assolutamente tornando a parlare di acostigenata ci siamo chiesti ma la presenza dell'acostigenata come può eventualmente modificare queste variazioni di calcio all'interno delle cellule endoteliali così come aveva fatto, avevamo registrato nei teracidociti, quindi nelle cellule epiteliali nel momento in cui oltre ad aggiungere la soluzione contenente miele le cellule erano state trattate con un'enzima che va a degradare l'acostigenata ovvero con l'enzima catalavi vedete che noi non otteniamo nessun tipo di variazione in termini di calcio di conseguenza anche in questo caso noi abbiamo assoluta necessità della presenza dell'acostigenata che viene fornita dal prodotto miele per attivare tutto quello che è l'aumento della concentrazione di calcio che poi porta all'innesco della rigenerazione tessutale anche in questo caso abbiamo valutato la presenza dell'acqua porina 3 e di nuovo anche nel caso delle cellule endoteliali è questa la via di ingresso dell'acostigenata dall'esterno verso l'interno della nostra cellula e quindi è quello realmente il punto di ingresso perché andando a eliminare l'acqua porina 3 dalle nostre cellule vedete che noi abbiamo una variazione sia di calcio ma anche di distanza dei lembi della nostra felita che non danno nessun tipo di effetto nel momento in cui noi abbiamo il controllo quindi l'assenza di miele noi abbiamo con o senza acqua porina 3 questo tipo di risposta nel momento in cui noi andiamo ad aggiungere il miele in presenza di acqua porina 3 guardate quanto è alto il livello di rimarginazione tessutale mentre invece nel momento in cui noi rimuoviamo l'acqua porina 3 noi non vediamo nessun tipo di risposta è assolutamente paragonabile a quello che capiterebbe anche in assenza di miele quindi è fondamentale la presenza dell'acqua porina 3 che possa far entrare acqua ossigenata e di conseguenza vada a stimolare tutto quello che è l'innesco del rilascio di calcio questa è un'immagine che vuole riassumere sembra molto complicata ma è molto divertente riuscire a mettere tutti i pezzetti poco per volta come fosse un piccolo puzzle possiamo riassumere il fondamentale effetto dell'acqua ossigenata con la presenza dell'acqua porina 3 che ne permette l'ingresso una volta all'interno della nostra cellula all'interno del citoplasma può determinare l'ingresso di calcio dall'esterno ma può anche andare a determinare il rilascio di calcio da quelli che sono gli store già presenti nella nostra cellula tutto questo va ad innescare quelle vie molecolari che portano alla rimarginazione alla rigenerazione tessutale il tutto con un prodotto assolutamente naturale che valorizza l'attività di tutta una filiera artistica non solo come dicevamo prima per poterlo mangiare in miele o metterlo in un dolce ma anche per utilizzarlo in ambiti completamente differenti ovviamente poco per volta stiamo cercando di far conoscere questo aspetto del miele non solo in occasioni come queste che sono probabilmente le migliori per far conoscere quello che gira attorno al miele in termini di rigenerazione tessutale ma anche su quelle che sono le riviste scientifiche in modo tale da convincere anche il mondo scientifico dell'efficacia del prodotto umile tutto questo ovviamente non l'abbiamo fatto solo io e il professor Ranzato ci hanno aiutato negli anni in realtà questo collage di foto dei nostri ragazzi che negli anni si sono avvicendati nel nostro laboratorio sarebbe da aggiornare sarebbe molto più grande questo puzzle di foto quindi non solo i ragazzi ma grazie a tante collaborazioni abbiamo potuto definire sempre meglio quello che è il prodotto umile ovviamente la collaborazione con Unimont e il gruppo della professoressa Ranzeri ma anche una collaborazione con il gruppo del professor Urai Maitan a Bratislava e ultima ma non meno importante negli ultimi tempi abbiamo iniziato a capire come il miele possa essere utilizzato proprio nella terapia grazie all'associazione italiana di apiterapia che ci supporta in tutto questo lavoro e grazie per l'attenzione grazie mille a Simona e a Delia perché veramente hanno messo in luce delle potenzialità veramente molto molto importanti in termini dell'applicabilità del miele veramente in concetti che sono nei filoni veramente di salute di prevenzione, di cura e di tutta una potenzialità veramente importante direi che stiamo andando verso il volgere del termine di questo seminario che non a caso ha voluto prendere vari esempi toccando vari punti di filiera quindi abbandoniamo il miele perché giustamente è il core product di filiera ma non dimentichiamoci che propoli, pappa reale e altri componenti possono avere un'importanza focale tanto quanto il miele quindi presentiamo l'ultimo caso pratico applicativo che deriva sempre dai nostri studi di ricerca ma soprattutto sui percorsi di innovazione che stiamo facendo anche in congiuntamente con un'azienda che si occupa proprio di lavorare in chiave innovativa la propoli italiana abbiamo una risorsa del territorio che è l'Italia e quindi questa va conosciuta per essere adeguatamente sfruttata in chiave competitiva lascio la parola adesso appunto sulla filiera della propoli alla dottoressa Leoni che giustamente ha assolutamente preso la centralità della filiera pistica come il suo desiderata di percorso di dottorato perché è un mondo crediamo affascinante buonasera a tutti e grazie ancora di essere collegati con noi nonostante l'orario appunto come diceva la professoressa Sara Panseri io parlerò della propoli proprio perché come è già stato detto durante questo seminario i prodotti delle api non sono solo il miele e i vari tipi di mieli ma abbiamo la propoli, abbiamo la pappa reale, abbiamo la cera, abbiamo il polline e appunto la propoli viene addirittura chiamata l'oro nero dell'alveare proprio per la sua preziosità quindi direi che vale la pena menzionarla propoli, il nome deriva da propolis, dal greco, vuol dire a difesa della città è importante dare questo cenno storico proprio per il fatto che riassume perfettamente quali sono i ruoli della propoli in un alveare la propoli viene utilizzata dalle api come prodotto che disinfetta e protegge la famiglia dai contaminanti come batteri, virus e patogeni di vario tipo e addirittura serve a evitare la decomposizione quindi la contaminazione dell'arnia nel caso di ingresso di piccoli organismi quali per esempio insetti e anche addirittura piccoli mammiferi come vedremo la cosa importante da dire è che la propoli è forse uno dei primi prodotti naturali utilizzati dall'uomo per la cura della salute ne abbiamo testimonianze nella civiltà dei greci, poi addirittura nell'Antico Testamento nel Medioevo con gli arabi è nominata da Vicenna per la cura appunto delle ferite come antisettico e delle patologie del cavo orale quindi diciamo che è di consumata e testimoniato utilizzo da parte dell'uomo passando alle tecniche apistiche, alla raccolta dell'apropoli da parte delle api è molto simile a quella del polline, la raccolgono con le zampe posteriori però visto che è una resina molto appiccicosa le api fanno un vero e proprio lavoro di gruppo per raccogliere questo prodotto dell'alveare cioè devono mettersi almeno in due o tre per staccarla dalle zampe e poi utilizzarla nell'alveare che viene appunto utilizzato come un disinfettante, una specie di cemento dal punto di vista delle tecniche apistiche la propoli viene raccolta con il metodo della raschiatura ovvero quando il telaino viene pulito dall'apicoltore si raccoglie questo cemento dell'alveare e poi si estrarà il balsamo poi professionalmente, cioè proprio focalizzato sulla produzione di propoli viene utilizzato il metodo delle retine ovvero vengono piazzate delle retine tra l'ultimo melario e il tetto dell'arnia creando degli spazi artificiali che l'ape deve riempire da cui poi viene raccolta la propoli e l'ultimo il metodo delle zeppette con cui si creano degli scalzi nell'arnia appunto per indurre le api a produrre questa specie di cemento chiamiamolo così la propoli ovviamente viene raccolta nel momento in cui è di minor disturbo per l'ape levargliela quindi durante il periodo estivo diciamo che recentemente, gli studi recenti hanno più che confermato le numerose proprietà salutistiche di questa sostanza hanno confermato insomma le conoscenze etnobotaniche relativa all'utilizzo dell'apropoli per la cura della salute cioè testimoniando le numerose proprietà e nel moderno approccio salutistico principalmente questo prodotto viene utilizzato per aumentare l'immuna resistenza naturale e molti di voi lo sapranno principalmente la si trova come estratto idroalcolico-alcolico ma anche glicolico in polvere e altre formulazioni insieme ad altre sostanze vegetali e oltre all'uso erboristico ne abbiamo l'uso anche cosmetico e come integratore alimentare quindi cosa serve un apicoltore per produrre la propoli e per venderla? serve una certificazione del Ministero della Sanità per la vendita di integratori alimentari che normalmente hanno farmacie ed erboristerie e poi questa certificazione UTIF che è rilasciata dai comuni per il semplice motivo che la maniera principale con cui viene distribuita l'apropoli è come estratto idroalcolico e la certificazione UTIF serve appunto per vendere gli alcolici che come sappiamo bene sono soggetti a particolari regole legalmente l'apropoli è inquadrata come prodotto vegetale allora è lecita la domanda dell'apicoltore che dice caspita ho già tutti i miei doveri di apicoltore in questo momento di difficoltà potrei produrre e vendere l'apropoli è eccessiva una certificazione del Ministero della Sanità allora bisogna considerare che l'apropoli come vedremo è una matrice estremamente complessa che contiene tantissime sostanze e che a volte presenta un problema di allergeni quindi bisogna essere correttamente preparati sia dal punto di vista del produttore e del consumatore per venderla in particolare dal punto di vista del consumatore come sappiamo bene molto spesso l'educazione del consumatore non è proprio del tutto corretta e l'apropoli può avere effetti antibatterici non è necessariamente liabia pensiamo ad esempio una persona che ha un'infezione batterica legge sul web che può curarsi con l'apropoli questa infezione batterica di grado superiore appunto insomma sia il consumatore che il venditore devono essere adeguatamente preparati e per questo una certificazione del Ministero della Sanità può essere giustificabile e inoltre come abbiamo detto una matrice estremamente complessa è molto molto difficile da standardizzare tant'è vero che nonostante come abbiamo visto l'apropoli era utilizzata dagli egizi ancora adesso non esistono standard internazionali di qualità per questo prodotto e anche la comunità europea non ha ancora creato una precisa referenza merceologica quindi è molto difficile determinare il valore di mercato di questo prodotto quindi dal punto di vista analitico è appunto molto difficile definire la qualità dell'apropoli perché è estremamente complessa cioè ogni volta è necessario uno studio preliminare per individuare i composti principali per andare a quantificarli appunto per definire la qualità dell'apropoli poi i suoi eventuali effetti benefici per la salute è molto difficile trovare un metodo di routine per definire la qualità di questo prodotto faccio un esempio molto pratico di quello che è successo a noi abbiamo deciso di fare uno studio sull'apropoli che poi vi spiegherò brevemente abbiamo fatto uno studio preliminare sull'apropoli del Comasco trovando il cape che viene definito uno dei marcatori dell'apropoli cioè comunque un composto un composto marcatore di questo prodotto e poi invece siamo andati ad analizzare cioè le propoli previste dalla sperimentazione non abbiamo trovato il cape il cape era sulle intracce e c'erano dei composti completamente differenti quindi appunto ogni volta è necessario fare uno studio preliminare per andare a definire i composti che poi definiscono le proprietà di questo prodotto apistico quindi questo appunto è il nostro studio di cui parlavo prima che ha dato vita poi a un paper per review quindi indicizzato e che è stato tradotto diciamo così in un articolo di tipo divulgativo su rivista di settore che è appunto Erboristeria Domani che potete trovarla tranquillamente possiamo distribuirvelo cosa abbiamo fatto? detto in parole povere allora questa azienda apistica che è l'azienda Agri quella terra di mezzo il simbolo è molto carino perché si vede che va dal livello del mare alle montagne si è proposta come stazione sperimentale per il nostro studio fornendoci due tipi di broccoli l'una era prodotta a livello del mare appunto nella pianura padana e l'altra era prodotta nell'appennino ligure quindi abbiamo cercato di capire meglio le caratteristiche di queste due propoli quindi dal punto di vista della resa in balsamo come vedete bene da questa fotografia dei due tipi di propoli la resa in balsamo si è rivelata maggiore per la propoli prodotti in montagna non sappiamo bene perché sia successo questo magari perché le api hanno trovato più facilmente le sostanze delle gemme da additivare alla cera per fare appunto la propoli oppure magari in pianura le api hanno più bisogno di isolare l'alveare rispetto a disinfezzarlo questo andrebbe approfondito tuttavia il risultato è stato appunto una maggiore resa in balsamo per la propoli prodotta nell'appennino dopodiché le propoli pur essendo prodotte a pochi chilometri di distanza seppure in due ambienti completamente diversi perché si parla di appennino ligure e pianura padana si sono completamente differenziate sia per acidi fenolici, flavoni e flavonoli sia per le sostanze volatili per le sostanze volatili più da un punto di vista quantitativo che qualitativo infatti circa 18 composti li abbiamo trovati in quantità diverse nella pianura rispetto alla montagna, chiamiamo così quindi parlando appunto di queste sostanze per esempio abbiamo trovato alfa e beta eudesmolo e alcuni flavonoli ed esteri dell'acido cinnamico più alti nella propoli della valle insomma nella propoli della pianura e questo perché queste sostanze già da letteratura precedente sono attribuibili alle resine provenienti dalle gemme di Populus nigra quindi il pioppo nero che è presente appunto vicino ai fiumi nelle valli invece cosa è successo? in montagna abbiamo trovato questi esteri fenolici del glicerolo che l'api non trovando il pioppo nero è andato a cercare la sua resina dalle gemme del Populus tremula quindi dal pioppo tremulo poi abbiamo trovato anche dei sesquiterpeni non identificabili probabilmente attribuibili ad altre essenze solo in traccia abbiamo trovato il pinene legato alle conifere molto probabilmente perché le api raccolgono dalle gemme delle conifere solo quando non sono presenti altre fonti perché diciamo che il pinene comunque le sostanze derivanti dalle conifere hanno un limite di mortalità molto alto cioè sono leggermente tossiche anche per le api quindi diciamo che probabilmente loro preferiscono altri tipi di essenza da cui raccogliere le loro cioè preferiscono altre essenze insomma quindi ad oggi in realtà la maggior parte degli studi sull'apropoli sono state fatte su zone in cui rappresenta il pioppo nero il pioppo nero come abbiamo visto è estremamente importante come essenza per la produzione dell'apropoli è molto amata dalle api e addirittura l'apropoli prodotta nelle zone temperate viene detta apropoli di pioppo, brown apropolis cioè apropoli bruna proprio per l'importanza di questa essenza e di pochi studi appunto l'apropoli va ulteriormente studiata lo sappiamo bene e in un caso di studio di propoli proveniente da vari paesi europei abbiamo 114 campioni ma solo 17 provenivano dalle zone nordiche montane qui è citato l'articolo e si è verificato che appunto in questo studio che le propoli delle aree montane contiene meno polifenoli di quelli considerati classici della propoli tuttavia la stessa attività biologica questo cosa vuol dire? che le api è importante conoscere l'etologia delle api perché loro vanno a cercare nell'ambiente in cui sono le risorse che hanno bisogno per la loro famiglia quindi da questo ne deriva che l'apropoli è un prodotto estremamente diversificato tuttavia è importante conoscere le passioni delle nostre api e sapere che loro preferiscono alcune essenze per la raccolta dell'apropoli che sono appunto il pioppo ma anche salice, betulla o il montano, paggio diverse caducifoglie insomma e insomma è importante questo perché è importante conoscere conoscere l'etologia dell'ape perché se noi sappiamo mettere le api in un posto in cui loro trovano le risorse per stare bene sicuramente producono bene stanno meglio e producono di più quindi se vogliamo produrre l'apropoli come apicoltori dobbiamo sapere che le api non scelgono le gemme qualunque delle gemme qualunque per produrre l'apropoli ma comunque sono capaci di utilizzare le risorse del territorio in cui sono quindi anche questa diciamo che è un aspetto positivo nel senso che noi non abbiamo una propoli abbiamo tanti tipi di propoli e appunto utilizzano queste risorse per difendere la loro famiglia ad esempio vediamo qua la foto di un topolino che ha avuto la sfortuna di entrare nell'armia ed è stato completamente mummificato di propoli appunto per disinfettare disinfettare l'armia con questa riflessione che è importante conoscere i nostri animali io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Sara che andrà un po' più nello specifico sulle nuove applicazioni di questa sostanza grazie mille Valeria per aver introdotto appunto la caratterizzazione sostanziale quindi mostrandoci le peculiarità della popoli siamo credo in chiusura mi prendo gli ultimi cinque minuti per presentarvi che cosa stiamo conducendo in termini di innovazione per quanto riguarda la filiera della propoli scusate e il lavoro che stiamo conducendo con un produttore che seleziona da anni la propoli volontariamente non introduce propoli che non sia italiana quindi esorto poi anche a fare delle riflessioni in merito ovvero a considerarci come possibile partner sinergico per chi volesse indagare il proprio la propria peculiarità della propoli in quanto ad oggi è poco prodotta poco raccolta per le difficoltà proprio insite nella filiera quindi dove sta il driver dell'innovazione nella propoli un esempio pratico è quello non solo di caratterizzare mettere in luce le proprietà funzionali abbiamo sentito composti antiossidanti composti con azione antibatterica battericida ma inserirli in chiave proprio di qualcosa di nuovo quindi stiamo esplorando come la propoli possa essere utilizzata in forma di innanzitutto propoli grezza quindi minimamente processata perché ad oggi non si parla di innovazione senza valore di sostenibilità la sostenibilità però ricordiamoci che deve essere vista come un obiettivo non solo di sostenibilità ambientale a cui si tende incardinare la sostenibilità ma soprattutto anche sostenibilità economica non c'è sostenibilità che non possa prendere in atto l'economicità dell'innovazione proprio per riuscire a traguardare l'obiettivo finale ovvero andare in quella che è proprio la chiave competitiva del settore quindi stiamo vedendo se diffondendo tramite qualcosa che sono dispositivi già certificati già brevettati quelle che sono le proprietà della propoli come antibatterico o ad azione antivirale sia in chiave di diffusione ambientale ma anche in chiave di diffusione inalatoria ovviamente nella diffusione inalatoria ovvero l'utilizzazione di propoli per fare aree o sol bisogna sempre tenere contezza di quello che diceva prima la collega Valeria ovvero nel momento in cui il bambino soprattutto si presenta con reazioni allergiche o plurifattoriali sempre da tenere in considerazione ma anche solo la diffusione ambientale ricordiamoci che ha una potenzialità veramente importante sono state fatte delle prove con questi diffusori ambientali che diffondono proprio proprio coligrezza e inclusi in quelli che sono locali ad alta densità locali scolastici scuole asile e quant'altro dimostrando da tamponi fatti negli ambienti circostanti quindi tamponi aerei come la carica batterica sia notevolmente abbassata e questo si è tradotto in che cosa in questo studio sperimentale fatto in collaborazione con la TS di Torino si è tradotto in minore assenza dei bambini non a caso né in periodo invernale dove il bambino sta a casa perché ha una lieve di rinite una lieve sinusite e quant'altro e tante volte è proprio la condizione ambientale dei luoghi in cui si trova che favorisce proprio l'insorgenza di queste patologie abbiamo a disposizione delle potenzialità immense perché non sfruttabili dove è la chiave di sostenibilità ambientale di questa innovazione è che la diffusione delle propoli bensì fatta in un dispositivo va a vaporizzare la propoli che è tecnicamente inserita in capsule di vetro chiuse semplicemente scaldando le propoli che come sapete bene è ricca di cera va a formare un tappo questi dispositivi hanno dei programmi che sono stati validati stiamo validando a livello sperimentale per portare in frazione aerea tutti i composti diffusivi della propoli che cosa sono sostanzialmente terpeni e quindi composti che hanno delle precise azioni specifiche a livello antibatterico battericida o antivirale le frontiere quali sono combinare che cosa combinare filiere combinare efficacia stiamo cercando di includere nella propoli a scopo sempre di vaporizzazione degli oli essenziali oli essenziali che sono scelti con una razzi ossia io devo andare a vaporizzare un ambiente ovviamente stiamo andando a selezionare dei mix che possano andare a dare degli effetti di fresco degli effetti balsamici proprio per le funzionalità che andiamo a proporre e si sta dimostrando veramente molto interessante perché se pensiamo di avere la propoli come matrice da poter portare in vigore perché abbiamo un territorio italiano che è proprio l'espressione di questo prodotto apistico abbiamo anche un altrettanto settore dell'officinale che non altro che l'espressione di un territorio quindi nel momento in cui noi scendiamo scegliamo varietà autoctone di oli essenziali di lavanda di bergamotto di pino possiamo andare anche coerentemente ad approcciare le filiere lo sviluppo di filiera in termini assolutamente sinergici e cosa si traduce questi due questi due grafici non sono altro che l'espressione di quello che noi andiamo a caratterizzare e a vedere come composti compositivi della propoli cos'è la propoli ro la propoli grezza quindi il vaporizzato di quello che noi andiamo a studiare della frazione volatile quindi aromatica emessa nell'ambiente addirittura quella che noi andiamo a respirare e quando aggiungiamo gli oli essenziali qua sulla destra vediamo come si modifichi il profilo in modo complesso andando giustamente ad arricchirsi della componente di sostanze che madre natura ci dà che sono i terpeni a scopo aromatico ma che hanno delle proprietà funzionali che si stanno indagando e fanno parte appunto di quelle che poi sono le azioni di bioattività della propoli e in questo grafico emerge come gli studi debbano avere una matrice sperimentale quindi ritorniamo un po' al secondo intervento del professor del professor Zuorro quanto io devo mettere di oli essenziali nella propoli per ottenere un effetto che sia funzionale ma anche gradevole perché se io sto includendo degli oli essenziali per avere una determinata connotazione aromatica nell'ambiente ovviamente devo andare a fare dei test che prevedano la valutazione soggettiva e quindi abbiamo predisposto quelli che si chiamano schede donistiche molto simili alle schede sensoriali che utilizziamo per valutare la caratteristica aromatica degli alimenti ed altre caratteristiche quindi sensoriali per andare a vedere quale concentrazione di oli essenziali inclusi nella propoli fosse più o meno gradita andando ad apprezzare il fatto che l'eccesso non sempre dà il risultato migliore infatti abbiamo testato un'inclusione di oli essenziali diverse concentrazioni è stata proprio la concentrazione mediana a darci il risultato migliore ovviamente lo facciamo in maniera sostenibile perché lo studio di quelle che sono l'inclusione degli oli essenziali non è altro che preso in considerazione attraverso lo studio di microincapsulati di cera proprio perché come dice una delle leggi fondamentali della chimica il simile scioglie il simile naturalmente il mezzo oleoso sta molto bene nel mezzo ceroso in una dimensione assolutamente collimante con la composizione nativa dell'apropoli io avrei chiuso questo seminario direi molti sfaccettato spero che abbiamo appunto dato spazio a molto tempo di approfondimento però abbiamo dato un ventaglio di quelle che possono essere delle direttrici che sicuramente noi seguiremo a livello di ricerca ma vogliamo accompagnare costantemente attività di divulgazione divulgazione attiva perché lancio quello che sarà la nostra prossima attività ovvero quello che doveva essere fatto oggi ma è stato semplicemente spostato per motivazione di covid ovviamente che ci ha imposto di lavorare in remoto ma quello che faremo questo tun organizzando sempre sulla nostra piattaforma lo faremo anche in presenza un tavolo tecnico in cui andremo a sia discutere criticità spunti necessità di quello che deve essere un lavoro sinergico condiviso non esiste innovazione e progresso senza un lavoro come ce le insegnano le api comunitario gli stakeholder sono una parte che deve diventare attiva perché ci danno spunti driver i cosiddetti punti critici che noi dobbiamo accompagnare in attività assolutamente allineate questo proprio per poter avere chance di rilancio alla nostro valore competitivo di territorio che direi quando parliamo di montagne dimentichiamoci solo l'arco alpino vengono espresse in una dimensione che è assolutamente a tiro nazionale io ringrazio tutti soprattutto i presenti che ci hanno dato la costanza del loro supporto da remoto e aprirei un breve momento di condivisione per domande riflessioni considerazioni e non dimenticatevi che in vista del tavolo tecnico che faremo verso l'autunno se avete degli spunti ovviamente perché sappiamo che tanti produttori sono collegati sarebbe nostro piacere riceverli proprio per fare attività assolutamente di tipo condiviso bene allora vedo che ci sono una serie di domande anche di apprezzamenti ecco allora diamo una rapida e veloce e veloce così scorsa alle domande e vediamo se riusciamo a dare subito qualche risposta in merito agli articoli alle pubblicazioni che sono state mostrate c'è una sezione dedicata sul sito Unimont che riguarda le pubblicazioni scientifiche dove trovate tutti i riferimenti per le pubblicazioni open access cioè quelle libere è sufficiente cliccare sul link che è riportato nel portale e potete scaricarvi la pubblicazione per le altre magari scrivete una mail assolutamente tutto il materiale verrà condiviso e vi esorto tutti a frequentare il portale dell'Università della Montagna perché nelle sezioni di filiera trovate proprio in costante aggiornamento tutti i lavori che vengono condotti allora sulle domande Sara Valeria i colleghi collegati colleghi collegati della domanda sull'idromele sinceramente non abbiamo mai preso in considerazione questo prodotto però è molto interessante magari chiedo a signor Mauro Guerrini di scriverci direttamente così magari consultiamo anche il chimico della situazione per ritrovare un problema una soluzione al problema del suo idromele c'è una domanda da Sergio che chiede se nel slide appunto di attività antiossidante del campione nominato come l'EA letter S fosse un castagno F scusate fosse un castagno altro l'EF sorprendentemente era un millefiori di alta quota quindi questo veramente ha a significare come non solo il miele uniflorale diciamo tra i più riconosciuti ha e possiede dell'attività veramente interessante a livello antiossidante non so se ancora collegata per motivi logistici la professoressa Martinotti viene chiesto il perché sia presente la caffeina nell'illustrazione delle pompe calcio e acqua ossigenata si sono presente allora la caffeina che era indicata negli schemi o anche magari nei grafici di registrazione del calcio era banalmente presente perché è un inibitore di uno dei canali del calcio presenti all'interno della cellula quindi nel momento in cui noi utilizziamo la caffeina blocchiamo quel canale e se realmente quel canale è coinvolto nell'aumento di calcio non riusciamo più a registrarlo era solo ed esclusivamente un dettaglio operativo del test non c'entrava niente con eventuali composizioni del miele utilizzato possibili sì ho visto una domanda proprio riferita a me ma volevo fare un'altra specifica su quella dei mieli millefiori come ha detto giustamente la professoressa Panseri il miele F era un millefiori di alta quota però tra i vari campioni era quello a quota minore cioè era appena considerabile un millefiori di alta quota era sui millimetri quindi loro adesso stiamo approfondendo anche la questione si sono trovati vicino al castagno e hanno deciso bene di andare invece di fare un millefiori di fare un millefiori però con prevalenza di nettare di castagno quindi era un millefiori però con prevalenza un millefiori base castagno cioè chi è un apicoltore conosce bene questo tipo di prodotto perché il castagno ha un polline che è che è presente in grandissima quantità infatti si esclude dalla melissopalinologica per poi andare a verificare le altre essenze e viene detto che spesso il miele è a base castagno però poi risulta millefiori o altro tipo di miele riguardo alla domanda di Alex allora composti di attivi in quantità differenze ora come ora non me li ricordo tutti perché abbiamo considerato circa 60 volatili e una novantina di altri tipi di composti però diciamo che quando abbiamo quantificato quelli principali attraverso l'HPLC c'è stata sì una differenza nel quantitativo degli acidi fenolici se mi ricordo bene nella propoli della valle del Po avevamo un maggior contenuto di acido transcinnamico che è anche considerato un marcatore della propoli di Pioppo Nero mentre invece quella prodotta sull'appennino aveva maggiori quantitativi di pare metacumarico e di un altro acido fenolico che al momento non mi ricordo ma dovrebbe essere probabilmente il ferulico come ho già detto se ci scrivi ti mandiamo sia la pubblicazione scientifica che quella divulgativa grazie una domanda a proposito della propoli ad uso agricolo se sono stati fatti degli studi su quale sia la più efficace e quali usi consigliati sì assolutamente sono stati fatti degli studi sulla propoli ad uso agricolo in particolare nel pest control cioè nel controllo dei insetti agenti patogeni ora come ora dovrei cercare per trovarli e poi io personalmente ho fatto delle prove delle prove io veramente per e ho visto che effettivamente ha un effetto interessante nella protezione delle piante bene direi che possiamo possiamo chiudere come è stato più volte ribadito se ci sono quesiti curiosità eccetera potete scrivere via mail e sicuramente riceverete una risposta nel merito e un piccolo commento interessante il tema della conoscenza del territorio e delle caratteristiche del territorio per ottenere prodotti qualitativamente come dire competitivi questa è una chiave fondamentale per la valorizzazione dei territori come quelli montani e il discorso che facevi Valeria sulla propoli quindi diversi tipi di propoli a seconda della della vegetazione dei luoghi è interessante perché è qualcosa che suona molto simile a quello che si fa in prospettiva con la zonizzazione nella viticoltura no? e sarebbe molto bello riuscire a fare altrettanto per la produzione apistica cioè riuscire a costruire delle mappe dei luoghi che diano indicazioni chiare ai produttori a riguardo della potenziale delle differenti aree per ottenere prodotti apistici con determinate caratteristiche e allora significa gestire la produzione con una strategia che poi può essere comunicata e questo consentirebbe credo la standard di certo grado di standardizzazione delle produzioni insomma sia di miele che di propoli e quindi potrebbe essere un approccio interessante esatto diciamo che il nostro territorio offre una peculiarità per cui a seconda della connotazione geografica noi abbiamo delle risorse vegetali animali veramente importanti e quindi proprio conoscendo il territorio caratterizzando e valorezzando e andando poi a lavorare sinergicamente con altre competenze come quelle di questa sera possiamo veramente esplorare nuovi ambiti a supporto di tutto il settore rapistico bene molto bene allora io ringrazio naturalmente Sara l'ho fatto all'inizio lo faccio in chiusura Valeria parto da loro perché le ho qua vicino a me ma ringrazio moltissimo i colleghi insomma Antonio Elia e Simona e qua anche qui vedete insomma Roma in Piemonte insomma tracciamo delle linee che collegano e che cercano in qualche modo di come dire trasferire dei messaggi dai contenuti solidi e nella nostra società questa missione è davvero molto importante quindi siete ancora in 112 e io mi permetto di fare un po' di promo se vi piace vi inter vi inter insomma vi ha eh testato interesse e vi piace quello che la rete Unimont fa con queste modalità diffondete amplificate a vostra volta perché poi ne beneficerà la nostra società quindi il beneficio di tutti ringrazio tutti e auguro buona serata grazie ancora e stasera un cucchiaino di miele a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti